chris stai bene? si certo temevo che bene cambia la medicazione oh no è tutto a posto me l'ha cambiata Cassie si l'ha fatto Cassie Sid dai te la le cambio io no no è necessario io ti sto solo aiutando io l'ho avvertito lui non ascolta fatti cambiare e piantare e fare il coglianazzo faccio divertire mi so